Cari ragazzi e care ragazze, questo video è per voi e per le vostre famiglie. Vi abbraccio idealmente tutti, tutti, dai miei alunni più vicini a quelli che guarderanno questo video e saranno anche chilometricamente più lontani, ed ogni anno, con un video che cerco di formulare in maniera sempre diversa, voglio dialogare con voi per capire l'importanza del Safer Internet Day, una giornata internazionale che celebriamo ogni anno, è voluta dalla Commissione Europea, per parlare della sicurezza in rete. E quando vi parlo di sicurezza in rete intendo dire che quando mandiamo un messaggino su WhatsApp, quando videogiochiamo, quando effettuiamo una ricerca su internet, dobbiamo sempre osservare dei principi e delle regole che non possiamo fare finta di dimenticare. E allora, qualche anno fa, vari tra voi lo conoscono, ho ideato e mi sento infatti il papà, questo documento che si chiama Il Galateo di Mister Internet, che è un decalogo, dieci punti, non esaustivi, ma cominciamo da qui, utilizzato da molte scuole in tutta Italia, per capire cosa fare e cosa non fare quando ci troviamo in rete. Ed allora, ad esempio, oltre a ricordarvi che da questo indirizzo in alto che state osservando, segnatelo, lo potete scaricare liberamente, gratuitamente per usarlo a scuola e a casa, vedete che alcuni principi sembrano banali, ma non lo sono. Non scrivere in maiuscolo se non serve. Sì, perché a parte il rispetto della ortografia, naturalmente, quando scriviamo, scrivere in maiuscolo equivale ad un urlo. Lo fanno anche gli adulti, e allora, se la prima cultura da trasmettervi è quella dell'esempio, ecco, l'esempio arriva dagli adulti, ma arriva anche da voi ragazzi. Se tutti adottiamo delle regole condivise, è più facile popolare un ambiente così ricco di opportunità come la rete. Inoltre, ricordatevi che le immagini su internet restano per sempre, per sempre. Non vi fate ingannare da un comando elimina per tutti, presente ad esempio su WhatsApp, quando vi trovate in un gruppo. Perché io posso sì eliminare da quel gruppo, posso sì eliminare dal mio dispositivo, ma ho lasciato una impronta digitale in rete che è praticamente indelebile. Inoltre, quello che vediamo su internet sicuramente è reale e non è mai virtuale, semmai è solo digitale, perché quello è il mezzo con cui noi vediamo un contenuto. E guardate, per esempio, i miei allievi, in questo caso, della secondaria di primo grado, cioè delle scuole medie, per dirlo in maniera impropria, cosa hanno scritto. Io poi ho montato il tutto in forma di nuvola di parole, con questo bel like grande, peraltro questo like lo vedete anche qui, è sulla mia giacca. Io ho montato in questo formato grafico dei cognomi. Cioè io ho chiesto loro in una nostra lezione di dirmi, senza pensarci, di dirmi distinto quali cognomi, quali personaggi presi da YouTube, da internet, siano per loro influencer. Ed è venuto fuori un po' di tutto. Chi mi ha detto Trump? Chi mi ha detto Elon Musk? Sapete l'inventore della macchina Tesla, insomma un visionario, no? In ambito tecnologico. Chi mi ha detto Chiara Ferragni? Chi mi ha detto Mark Zuckerberg? Noi abbiamo cercato, insomma, di far passare anche qualche influencer culturale, come il professor Barbero, che parla su YouTube di Dante Alighieri, Obama. Insomma, ognuno ha in qualche maniera un personaggio in mente, ma il concetto di influencer non lo avete chiaro per davvero, perché l'influencer non è chi pubblica video su YouTube ed arrivando a moltissime visualizzazioni trae anche qualche guadagno. L'influencer è colui che è in grado, con i suoi contenuti, con il suo comportamento, di spostare le opinioni. E allora vi stupirò se dovete pensare ad un personaggio lontano da tutto, lontano da concetti economici, politici, sportivi, che parlando al mondo sia in grado di spostare le opinioni. Ecco, se io penso a questo, il personaggio che mi viene in mente non è tra quelli qui esposti, ma mi viene in mente ad esempio il Papa. Al di là del credo religioso di ciascuno, mi viene in mente il Papa, perché mi viene in mente una persona con un ruolo che quando parla al mondo, in base a dove e a quale messaggio vada a lanciare, può anche essere in grado di interrompere una brutta guerra. E allora ragazzi, quello è il concetto di popolarità e di influencer che dobbiamo avere chiaro. Quello. La popolarità non è data dalle visualizzazioni, non è data dalle amicizie, dai likes che noi possiamo dare o non dare. La popolarità è data dal rispetto che noi proviamo verso una persona. Un insegnante a cui ci affezioniamo, resta per noi un influencer per tutta la vita. Un familiare molto caro, un amico, una persona che durante i miei studi e poi la mia vita lasci un segno. Quello è un influencer. E a lui dobbiamo credere anche e soprattutto quando il suo esempio risulti per noi di ispirazione. Guardate, mentre vi saluto, vi mostro anche perché dovete diffidare, diffidare, di una qualsiasi immagine abbinata ad un profilo, su qualsiasi social media, e si dice proprio così perché media è un plurale che deriva dal latino, perché sono i mezzi, e da qualsiasi applicazione. La vedete questa bambina con questi bei lineamenti e questi begli occhi? Bene, questa bambina in realtà non esiste ragazzi. Questo volto è un esempio di intelligenza artificiale e qui siamo su un sito internet. Chiunque di voi ora, terminata la visione di questo video, ci può andare, il cui indirizzo è this person does not exist. Lo vedete qui in alto riportato nella barra degli indirizzi del nostro programma di navigazione. Questa persona non esiste. Accedendo a questa pagina web, in maniera casuale, compare un volto ricostruito grazie ad un algoritmo, cioè all'intelligenza artificiale, e questa bambina non esiste in nessuna parte del mondo. Non è un vero essere umano, ma io posso con facilità, lo sapete, scaricare questa immagine all'interno della galleria del mio telefonino, in una cartella del mio computer, abbinarla ad un account con un nome e un cognome e contattare un coetaneo. E se io clicco another, cioè un altro, il pulsante che vedete qui in basso a destra, ogni click che io vado ad effettuare, mi fa cambiare il volto. Prima avete visto un uomo, ora una donna. E una donna di questo tipo può tranquillamente contattare un uomo, grosso modo di pari età, di pari provenienza, professione, eccetera, cercando di trarlo in inganno con dei messaggi o con un semplice saluto. Questa si chiama ingegneria sociale. Molte delle truffe, molti dei comportamenti che ci fanno cadere su internet, che ci fanno inciampare, non nascono dallo strumento, ma nascono dal nostro abbassare le difese. Ecco perché ingegneria sociale, perché io sono rassicurato dal fatto di essere contattato da chi mi somiglia o da una persona con cui penso di avere degli elementi in comune. E allora, ve ne prego, state attenti, le cronache recenti ci parlano di un brutto episodio accaduto su TikTok ad una bambina di dieci anni, che non vi racconterò qui, ve lo racconteranno i vostri genitori, ve lo racconteranno gli insegnanti in classe, però vi dico che quando su internet viene lanciato un cosiddetto challenge, una competizione, beh, scusatemi, quella non è una competizione. Quella è una scemenza che come tale va trascurata. Riflettete non sullo strumento che usate, ma riflettete, siate capaci di guardare cosa sia davvero per voi la popolarità. Non credete ragazzi ai falsi miti, credete invece all'impegno, credete allo studio, credete al voler essere un esempio anche per i vostri compagni, per i vostri genitori, perché basta un piccolo gesto, basta una parola, eh sì, l'importanza delle parole per trasmettere agli altri uno stato d'animo e per poter trasmettere agli altri quella che si chiama l'empatia, il nostro metterci nei panni degli altri. Ed allora, mentre vi saluto e vi ringrazio per avermi ascoltato, su YouTube, ecco io non ho niente a che fare con quell'influencer del like enorme che avete visto, ma se voi su YouTube andate a ricercare il mio canale, che banalmente è in capo a me, quindi Andrea Cartotto, vedrete che all'interno del mio canale YouTube c'è una playlist, una rubrica che si chiama così, ve la sto mostrando, Cyberbullismo ed educazione digitale. Ci sono dei video in elenco, tutti a vostra disposizione, a disposizione degli insegnanti, con cui diviene possibile parlare sì di tecnologia, ma soprattutto quella di cui stiamo parlando non è tecnologia come disciplina, come materia, non è informatica, ma sapete che cosa è? È cultura digitale, anzi cittadinanza digitale, perché piccoli o grandi tutti noi di sicuro siamo cittadini del mondo in cui viviamo, e il mondo in cui viviamo di sicuro è e sarà digitale. Non possiamo ignorare questo nostro mondo digitale, non possiamo neppure starci senza averne le competenze, ed ecco perché allora una volta all'anno è persino poco per parlare di sicurezza in rete, di come il web ed internet abbiano e stiano cambiando le nostre vite. Sapete quando è nata internet? Ve lo dico, non si chiamava neppure così, si chiamava ARPANET, era il 1969 e negli Stati Uniti un dipartimento, sì militare ma che in realtà conduceva studi per le ricerche avanzate, ha dato vita, allora credo inconsapevolmente a quello che sarebbe diventato il fenomeno, a quella che sarebbe diventata l'invenzione forse più potente del nuovo millennio. Ecco, il potere è nelle nostre mani, nelle vostre mani. Fatene, facciamone buon uso, anche senza essere Superman, anche senza essere Clark Kent. Un saluto ragazzi da Andrea Cartotto, un saluto ragazze da Andrea Cartotto, a voi e alle vostre famiglie. Mi raccomando, lavoriamo tutti insieme per questo.